5 secondi 70 destra 4 e sinistra 5 per destra 2 in sinistra 5 lunga chiude 3 40 destra 4 e sinistra 3 40 accenno destro per destra 5 lunga lunga chiude 70 tornante sinistro in destra 3 100 accenno destro e sinistra 6 lunga lunga chiude 4 e destra 4 più in sinistra 5 e destra 5 lunga lunga 60 sinistra 2 e destra 5 110 chicken sinistra stai a sinistra 150 accenno destro 50 chicken destra stai a destra stai a destra a vista 300 tornante destro stretto a vista 200 tornante sinistro stretto a vista 200 attenzione sinistra 6 40 destra 4 più 50 sinistra 6 per destra 4 40 sinistra 3 120 20 accenno destro 60 accenno sinistro 40 attenzione accenno destro e sinistra 3 40 accenno destro 250 arrivo a vista un rocks 2 incenno 0 1 2 6 ��